La final offer, guarda che bellezza, e pensate che l'ho comprata per due soldi da una banda di pirati somali, volevano venderla come raffame, roba da non credere, certo non si chiamava ancora final offer, quello è stato un mio colpo di genio, nella sua vita precedente era la nave da carico e da crociera Olivia B. Meredith, una vecchia signora della, non se ne fanno più una di così solida e resistente con tutto quello che si può desiderare, quindi la media deve essere uguale a la città, non si conoscevano, è stato un po' di